Scusi, lei è fuori ordine, attenda arriverà il suo turno, la prego. Scusi, scusi, la prego. Lei non ha in questo momento l'opportunità di intervenire, perché l'intervenire è qua. Senta, lo potete accompagnare gentilmente alla porta, il signore? La prego, la prego, la prego. Non esaggia, quindi potrebbero fare questa domanda, sì, durante il sedicino, ne ho fatto un po' di sedicino. Prego. Mariella Venditti, Tg3. A parte, scusi, mi sembra curioso accompagnare alla porta un giornalista che fa una domanda. No, un giornalista che interrompe le domande in maniera inopportuna e sgarbata nei confronti dei suoi colleghi, nei confronti. Non abbiamo preconfezionato nulla. Lei è un villano e i villani meriterebbero ben altra cortesia rispetto a quella che io sto praticando nei suoi confronti. Si vergogni.